Alcuni studiosi hanno messo in discussione l'effettiva funzione delle catacombe per i primi cristiani, asserendo che fossero solo dei luoghi di sepoltura e non anche di nascondimento. Comunque per noi la frase andare nelle catacombe significa che alcuni devono nascondersi per fuggire una certa data persecuzione. Ora, bisogna dire che si può essere perseguiti per motivi giusti, perché si compie un'infrazione, o per motivi ingiusti, perché si mantiene un atteggiamento fermo su certe questioni che vengono ritenute importanti. C'è ovviamente una differenza sostanziale fra l'essere perseguiti per una cosa ed esserlo per l'altra. Io credo e spero che questo sia chiaro alla nostra gerarchia ecclesiale, che è chiamata a prendere certe decisioni su certe questioni che sono veramente importanti per la vita della Chiesa e per la sua disciplina dottrinale e liturgica. Oltretutto, mentre è giusto tentare di fermare atteggiamenti eretici prima che si infettino il corpo ecclesiale, cioè segnalando al popolo di Dio che una certa idea non è in armonia con la dottrina della Chiesa, sarebbe imprudente cacciare nelle catacombe persone che non portano avanti idee o atteggiamenti contro la Chiesa, perché non si può sapere come questo poi si ritorcerà contro chi compie l'azione repressiva. Ricordiamo che i primi cristiani non sono scomparsi ma si sono moltiplicati ed hanno prevalso. Cacciare le persone in un angolo quando esse sanno che non sono contro qualcosa ma per qualcosa di più importante è spesso, molto spesso, una cattiva idea. La Chiesa è chiamata ad integrare ciò che è buono, come dimostra con l'accoglienza che ha dato a varie forme liturgiche nel corso della sua storia, forme liturgiche legittime e dignitose. Sarebbe veramente pericoloso che la Chiesa divenisse proprietà di una specifica ideologia o corrente di pensiero, perché questo avrebbe conseguenze inimmaginabili. Pensiamo per esempio a quello che succede oggi dove vengono tollerate le astruserie liturgiche più estreme. Sarebbe veramente strano che quando si tollera quello che si tollera vedendo in giro nelle nostre parrocchie non si avesse un rispetto grande e un rispetto dovuto per le forme di preghiera tradizionali.